6, 5, 4, 3, 2, 1, Funky! Per bloccare i nemici e perderemo comunque, questa è la dimostrazione del fatto che Battlefield alla fine, anche se si gioca in 5, quando si è in tanti giocatori come in questa partita, 32 contro 32, le cose non cambiano tanto. Però vi lascio al video che è sempre bello da vedere, specialmente perché uso l'arma di cui ho fatto la recensione nell'ultimo video. Let's go! Oh, Powered è salito! Ti ho passato il piano? Minchia, ma ancora visto. Oh, non ci chiede. Da sopra di scale, preso! Vai, 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 guarda tu, guarda tu! 100,9, veloz! Oh, sbagliato! Granata! Ma cammini, ce l'hai fatta a farlo! Oh, sopra Powered, da sopra di scale! No, appena ci mettono! No, raga! Siamo a 32 contro le 32, non potete venire da voi! Vabbè, ma fra poco qualcuno quitta, fidati! Vedi le munizioni, servono munizioni? No, sono morti! Da sopra! Da sta lì, stanno a scendere tutte e su quello! Prendi la classe di questo che c'ha le munizioni, tipo! No, servono munizioni assolutamente! Quindi, scendi, scendi o moriamo! Sì, scendi, scendi, Powered! No, mi sei messo accanto! Servono muni, se no spavano con il supporto, dimmelo subito! No, no, matto, voglio io faccio un po' Ma sei morto! Se ve lo potete togliere appena arrivo! Stai venendo tutti quanti, stai venendo tutti quanti, quanti, quanti! Ah, regà, andiamo a quantità in... Ma tu c'hai il pacchettino piccolo di minuzione? Eh, perché nello mare c'è più forte, non bello! Oh, adesso per le scale! Io ci avrei la cassa, ma non guitta nessuno! Viene di gente nella torre delle scale! Ah, bello, abbiamo fatto il pezzo, sape? Regalichiamo tutti, aspettiamo un secondo! Regà, andiamoci a riprendere B! Andiamoci a riprendere B! Dai! Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto! No, sono tutti là sotto, regà! Tutti là sotto! Troppi, 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 non so se ce la faccio! Andiamoci tutti insieme, se no è un casino! Sto entrando qua, guarda dentro! Due! Due l'ho preso, due l'ho presi! Oh, regà, è passato! Ma c'è i buffi! C'è da sopra? Sì, fermo i colpi di... Ok! Sei passato da sotto, proprio! Io c'è da sopra! Sto arrivando anche io! Sembra strano che non vedo gente, più che altro! Non ho detto... No, è da dietro! Ce la fai restarmi te? Bella! Spannola da me, guarda qui! No, 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 non mi restate! Raga dietro, raga ovunque! Arrestatemi! C'ho il resto! Arrivo! Arrestate sul fuoco! Che fuoco è fuoco! Raga, arrestatelo! Arrivo! Occhio, occhio! Sono fuori, non riesco a arrestarti! Io sto guardando così la porta incrocio! Lì dietro, power! Preso, preso! Abbiamo bisogno di munizioni! Abbiamo bisogno di munizioni! Merda! Non c'è un altro pacco che... Raga, ci prendono da dietro, ci stanno prendono da dietro! Guardate l'altra porta, l'altra porta! Ecco ti, infatti! Presi! Presi! Andiamo! Aspetta, aspetta! Un'altra ancora! No, 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 le granate! Non c'è un po' di scienza! Vai, rinascete su di me, regà! Andiamoci a prendere A! Vai, al stando già le mani! Andiamoci! Torniamo alle altre bandiere! Eh, non si vede! Eh, c'ho 10% di più di velocità! E' un po' di scienza! Ok, 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 eliminiamo questi e poi andiamo! Ok ragazzi, andiamo, facciamo il giro! Da fuori, da fuori, da fuori, andiamo da fuori, andiamo da fuori, più sicuro! Sono stato promosso! Esistono, perdono anche C! Vai, 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 è il nostro momento ragazzi, nessuno si aspetterà che siamo fuori! Ok, preso! E' proprio la mia arma preferita, se non ce l'ho toccata! Preso! No, mi ha fatto tirare la gana addosso al muro! Che bravo! Spini power, aiutami! Spini! Ragazzo! Sono andato solo! Vediamo col problema in una pistola K Zheng Ziochino, controllo e quest'anno scelte! Allora sotto regho! Scusate, con l'MCD! Vieni, vieni, vieni! Pollo bruciato, questo ti chiama Pollo bruciato regà! Se l'ho incontrato pure io fallo Qui insieme, andiamo Ammazzare un pallettone Tira un pallettone Controlliamo Avanziamo, avanziamo Ma che cazzo è che spara? Avanziamo, avanziamo, aspettate ragazzo, ricarica Vai, andiamo Vessi gli stramichi, vessi gli stramichi Sopra, raga, sopra, sopra Uno l'ho ferito, vi sta arrivando addosso, raga L'altro l'ho preso Bello Raga, non ho più pari d'idea di dove sponino Ho preso i due Dove stanno arrivando? In B, raga, sono tutti in B Venga, abbiamo così preso C Bella Venite, raga, in B Vai, vai Sistra, vai a sinistra, amici Sinistra, sinistra, è meglio sinistra Raga, sinistra, tutti in là, tutti in là Ce l'abbiamo dietro, ce l'abbiamo dietro di sotto L'ho fatto io Raga, venite da me, venite da me Lasciate perderla, andami a sinistra Eh, ma ci sta uno, sì Eh, lo so, ne ho ammazzati tre Non posso farli tutti Venite, raga, a sinistra È più semplice Restatemi, restatemi, raga Ecco, c'è uno a sinistra, raga Date voi che ho tirato le granate io Su, prego Date avanti voi, ho tirato le granate Sono tutti feriti Con munizioni Alzate voi Buttale, amici, buttale Grande, amici Raga, è pieno, è pieno, è pieno Anche dall'espirale No, c'è nessuno, c'è nessuno Vai, ho fatto fuoco di soppressione Andiamo Sto arrivando, sto arrivando, raga Scusatemi Mi sono fermato Ne è rimasto solo l'uno Entra, entra No, nella cucina Preso Ti resto, ti resto, ti resto Bravi, raga, stanno attaccando C, eh Attenzione, ci possono prendere da dietro C'è uno e mezzo alla sala Prevati Bravi Dai avanti, davanti, nel fondo Vai, raga Della cucina, dalla cucina Dove cazzo è? Mi hai ucciso tu, Damm Raga, vieni, dobbiamo andare in C da sotto, ora Vabbè C'è scritto ucciso da Inside Damm Avrà preso fuoco tutto Arrivano tutti qua Via, 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 via Buttate le munizioni qua dietro Dai, li sto uccidendo tutti con l'incendiaria Bravo Occhio che ne arrivano ancora Sì, è pieno, raga, è pieno Tutta le munizioni, il cannone Guarda, Miki Miki, grazie, tutta Dove cazzo è una tsunami? Qua è difficile passare senza granate o cose varie Fate pre-fire Guarda come chi fa Guarda, ragazzi Ok, che è preciso C'è uno sdraiato, c'è uno sdraiato Avanti, avanti, ora È morto, è morto È morto, raga, non c'è più nessuno Dai, avanziamo, avanziamo, avanziamo Proviamoci, proviamoci Sto dentro, sto dentro, dai Eh, la bella, le scale, le scale, raga Le scale Vai, vai, power È apposta, dico, andiamo sulle scale Ma guardi Raga, è pieno Mi hanno inciso quel puffo In mezzo alla piazza ce ne saranno una decina Guardate se non entrano da sotto Raga, qualcuno devi guardare sotto Chi è questa accanto a me che mi blocca? Mi sta bloccando, zio Oh, è uno fuori ce n'è No, è dietro, power Power dietro Scappare Restate su di me, ragazzi Restate su di me Trolla la porta Arriva, arriva Ok Ma ti chiude Occhio C'è uno ancora Passa sulle scale Sono dietro Ho fatto doppia L'ho preso tutti e due Quelli che sono le scale Ah, sono morto Dai, regà Fid è mio Ho fatto una strage Ancora c'è gente Sì, non se sa Oddio, chi mi ha arrestato Sei un genio Io Un genio No, io sono stati Mi hanno ucciso Sopra c'è qualcuno? Sto arrivando Sto morti Cazzo, mi sa che arrivano da sopra Saliamo, saliamo No, mi hanno ucciso da sotto No, mi hanno ucciso da sotto